Ieri Roma ha vissuto il primo e vero nubifraggio d'autunno, ha fatto danni e causato disagio a chi doveva raggiungere posti di lavoro o prendere i bambini a scuola, anche perché la pioggia battente a Roma è stata accompagnata da forti raffiche di vento e fuori da due trombe d'aria sul litorale di Fiumicino e nei dintorni di Monte Rotondo. Nel primo caso con conseguenze soprattutto nella zona di Testa di Lepre, nel secondo di Mentana e Fonte Nuova, alberi sradicati, scaraventati sulle auto, cartelloni pubblicitari abbattuti, antenne tv e parabole inutilizzabili. Nessun ferito ma tanta paura, con automobilisti salvati nei sottopassi allagati da oltre un metro e mezzo d'acqua, altri scesi dalle vetture per liberare con i residenti di alcuni quartieri e gli scooteristi caditoi e tombini intasati da foglie e sporcizia. Armati di tondini di ferro, ombrelli, bastoni da passeggio, a decine si sono dati da fare per far assorbire grandi pozzanghere che impedivano il passaggio ai pedoni, oltre a rendere pericolosa la circolazione stradale. Romani al lavoro al posto di chi avrebbe dovuto farlo per liberare tombini e caditoie. Secondo molti cittadini infuriati, i numerosi danni sono stati colpa proprio dell'incuria e della scarsa manutenzione.